Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Il Signore è l'atterrata per quanto contiene il mondo con i suoi abitanti. E' Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire anche il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti nel cuore puro? Chi non si rivolge al tuo volto? Chi potrà salire anche il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.